Era una giornata calma e soleggiata, di quelle che invitano alla pigrizia e al riposo, ma Zuleia aveva deciso che era il momento perfetto per dedicarsi a un compito che rimandava da tempo, riordinare la soffitta della casa di famiglia. La soffitta era piena di scatole impolverate, mobili antichi e ricordi di generazioni passate, un luogo che sembrava custodire i segreti di tutta la famiglia. Mentre spostava scatole e sistemava vecchi abiti, Zuleia si imbatté in una piccola scatola di legno, nascosta sotto una vecchia coperta. Curiosa, aprì la scatola e trovò al suo interno una serie di lettere legate insieme con un nastro di velluto. La maggior parte delle lettere erano aperte e lette, tranne una che era ancora sigillata. Quella lettera, diversa dalle altre, attirò subito la sua attenzione. Era indirizzata a sua madre, ma, cosa strana, il mittente era un uomo di nome Colac, un nome che non aveva mai sentito prima in famiglia. Intrigata e un po' sorpresa, Zuleia si chiese chi potesse essere questo misterioso Colac e perché sua madre non avesse mai aperto quella lettera. Forse era stata dimenticata o, forse, c'era un motivo ben preciso per cui era rimasta sigillata e nascosta in quella soffitta per così tanto tempo. Nonostante si domandasse se fosse corretto leggere una lettera così personale, la curiosità prese il sopravvento. Zuleia sentiva che quella lettera potesse nascondere qualcosa di importante, forse un pezzo della storia della sua famiglia che non conosceva, un segreto mai svelato. Decisa a scoprire di più, Zuleia iniziò a indagare su questo misterioso mittente. Chiese ai parenti più anziani e ai vicini di casa se conoscevano un uomo di nome Colac, ma sembrava che nessuno avesse mai sentito quel nome o non volesse parlare. Ogni tentativo di scoprire qualcosa di più sembrava portare solo a più domande senza risposta. La curiosità di Zuleia si trasformò in una vera e propria missione. Si rese conto che l'unico modo per trovare le risposte che cercava era di andare oltre le semplici domande. Decise di visitare l'archivio del comune, sperando di trovare qualche traccia nei registri pubblici o negli archivi storici. Forse lì avrebbe potuto scoprire chi era Colac e quale legame avesse avuto con sua madre. Con la lettera ancora non aperta in tasca, Zuleia si avventurò fuori dalla tranquillità della sua casa, determinata a svelare il mistero di quella lettera dimenticata. Sapeva che quello che avrebbe scoperto avrebbe potuto cambiare per sempre la sua percezione della sua famiglia e della sua stessa storia, ma era pronta ad affrontare qualsiasi verità si nascondesse dietro a quella lettera sigillata. Zuleia inizia a chiedere agli anziani del villaggio di Colac, ma tutti sembrano evitare l'argomento o cambiare discorso. La sua curiosità cresce ancora di più. Parte 3. La confessione di una vecchia amica. Una vecchia amica della famiglia, vedendo l'insistenza di Zuleia, decide di raccontarle che Colac era un tempo molto vicino a sua madre, ma scomparve improvvisamente molti anni fa. Parte 4. La scoperta. Zuleia trova vecchie foto di Colac e sua madre insieme, felici e innamorati, in una scatola nascosta. Le foto sono datate a poco prima della sua nascita. Parte 5. Dubbi e confusione. Zuleia inizia a dubitare della sua origine e si sente confusa. Confronta le date e inizia a sospettare che Colac potrebbe essere suo padre. Parte 6. La ricerca di Colac. Determinata a scoprire la verità, Zuleia parte alla ricerca di Colac, viaggiando verso la città dove si dice che abiti ora. Parte 7. Il primo incontro. Dopo giorni di ricerca, Zuleia finalmente trova Colac. Lo osserva da lontano, cercando di trovare il coraggio di avvicinarsi. Parte 8. La verità viene a gallavolare. Zuleia si confronta con Colac, mostrandogli la lettera e le foto. Dopo un iniziale momento di shock, Colac ammette che è vero. Lui è suo padre. Parte 9. Rivelazioni e spiegazioni. Colac racconta a Zuleia di come lui e sua madre fossero innamorati, ma di come le circostanze li avessero forzati a separarsi. Lui non sapeva della sua nascita. Parte 10. Il ritorno al villaggio. Zuleia e Colac ritornano insieme al villaggio. La loro apparizione mano nella mano crea un misto di stupore e curiosità tra gli abitanti. Parte 11. Accettazione. La famiglia di Zuleia e gli abitanti del villaggio, dopo il primo momento di sorpresa, iniziano a accettare la verità. Zuleia sente un senso di appartenenza e di completezza mai provato prima. Parte 12. Un nuovo inizio. Zuleia e Colac, dopo aver scoperto la verità sulla loro relazione, decidono di non perdere più tempo e di iniziare a costruire subito un legame padre-figlia. Qualcosa che non avevano mai avuto l'opportunità di vivere prima. Questo nuovo inizio per loro è come aprire un libro pieno di pagine bianche, pronte per essere scritte con nuovi ricordi, esperienze e momenti di felicità condivisi. Nei giorni seguenti, la rivelazione, si vedono spesso insieme, passeggiando per il villaggio, parlando e ridendo, come se stessero cercando di recuperare ogni singolo momento perso in tutti questi anni. Colac porta Zuleia nei luoghi che erano stati importanti per lui e per sua madre, raccontando le storie del passato, condividendo ricordi dolci ma anche dolorosi, rivelando i suoi pensieri e le sue emozioni. D'altro canto, Zuleia condivide con Colac i suoi sogni, le sue speranze e le sue paure, aprendogli il cuore come mai aveva fatto prima con nessuno. La gente del villaggio, che inizialmente era stata sorpresa e forse un po' scettica riguardo a questa rivelazione, inizia lentamente a vedere il cambiamento positivo che questo legame porta non solo a Zuleia e Colac, ma all'intera comunità. La loro storia diventa una testimonianza di speranza e di riconciliazione, ricordando a tutti che non è mai troppo tardi per cambiare le cose, per trovare amore e perdonare. Man mano che passano le settimane, si può notare un cambiamento anche nell'atmosfera del villaggio. C'è più allegria, le persone sembrano più unite, e c'è un senso generale di ottimismo e speranza per il futuro. La storia di Zuleia e Colac ha ricordato a tutti l'importanza della famiglia, sia quella legata dal sangue, sia quella che si sceglie, e come l'amore possa davvero superare ogni ostacolo. Zuleia, che per tanto tempo si era sentita divisa tra due mondi, ora si sente completa, sapendo di avere due famiglie che la amano profondamente. Da un lato ha la sua famiglia con la quale è cresciuta, che le ha dato amore e supporto in ogni momento della sua vita. Dall'altro, ora ha anche Colac, suo padre, e attraverso lui, la possibilità di connettersi con una parte della sua storia e delle sue radici che non conosceva. Per Colac questa rivelazione era stata un dono inaspettato del destino. Lui, che per anni aveva vissuto con il rimpianto di non aver potuto essere parte della vita di sua figlia, si trovava ora di fronte alla possibilità di redimersi, di colmare quel vuoto che aveva sentito per così tanto tempo. Questa scoperta Ghili dava non solo una seconda possibilità di essere padre, ma anche la speranza di poter amare e proteggere Zuleia, in un modo che una volta aveva creduto perduto per sempre. La notizia aveva inizialmente scosso entrambi, ma ben presto si trasformò in un forte legame che li unì più di qualsiasi cosa. Iniziavano a passare del tempo insieme, imparando l'uno dell'altra, condividendo storie, sogni, paure e speranze. Per Zuleia era come se stesse scoprendo una parte di sé che non sapeva di avere, mentre per Colac era come se stesse riscoprendo se stesso attraverso gli occhi di sua figlia. La loro storia divenne presto nota in tutto il villaggio, trasformandosi in un simbolo di speranza e di riconciliazione per molti. Vedere come padre e figlia, separati per tanti anni da circostanze al di là del loro controllo, riuscivano ora a trovare un terreno comune e a costruire una nuova relazione. Era fonte di ispirazione. La comunità, che inizialmente aveva guardato a questa situazione con una certa dose di scetticismo, iniziò a vedere in loro l'esempio vivente, che non è mai troppo tardi per cambiare, per perdonare e per ricominciare. Zuleia e Colac, giorno dopo giorno, costruivano qualcosa di nuovo e prezioso. Era come se, insieme, stessero tessendo una nuova trama nella grande tela della loro famiglia, aggiungendo colori vivaci laddove prima c'erano solo ombre. La loro relazione si rafforzava e con essa cresceva un senso di fiducia reciproca e di affetto incondizionato. Guardando al futuro, entrambi erano pieni di speranza. Sapevano che ci sarebbero state sfide da affrontare, momenti difficili da superare, ma erano anche consapevoli che, avendo ritrovato l'uno o l'altra, avevano già superato uno degli ostacoli più grandi. Ora, più che mai, erano pronti a costruire insieme una nuova storia, una storia fatta di riconciliazione, di amore e di famiglia. Una storia che avrebbe mostrato a tutti che, nonostante le avversità e gli errori del passato, è sempre possibile trovare la strada per tornare a casa, nel cuore delle persone che amiamo. E così, attraverso difficoltà e scoperte, Zuleia trova la verità sulla sua origine, portando a un finale che celebra l'importanza delle radici e della famiglia. Cosa pensi di questa storia? Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Terra Amara.